Salve amici, questo è un discorso ASMR a caso a luna e venti di notte. E allora, allora, che vi posso raccontare oggi che cosa ho fatto? Allora, prima di tutto sono passato a controllare il mio bellissimo forum ASMR e vedo che sta crescendo pian piano, sempre più gente arriva e anche nomi importanti come Whisperiment che, porca miseria, credo di un Whisperer italiano maschile più famoso. Questo è stato uno dei primi, un pezzo da 90, uno che poi ne sa tantissimo, ha fatto di video di ogni tipo, a parte questo, ma anche ha aperto una discussione sul forum dove spiega la qualità degli strumenti per ricreare, per esempio, i suoni binaurali. E per come fare le cose come Dio comanda. E quindi, grazie Whisperiment, poi c'è anche detto che ci pubblicizzerà nel prossimo video. E poi è arrivata la mia beniamina, la mia idola, la mia musa dell'ASMR che è Mrs. Retrofuturist. Lei è bravissima, proprio mi ha fatto interessare a cose che non pensavo minimamente. Ho fatto dei video su argomenti come la moda, che io non ho proprio nulla a che fare con la moda, abbiamo preso due direzioni differenti. Però la sua passione è come racconta lei, non racconta nessuno. Poi anche Butterfly Whisperiment, che non conoscevo, ho conosciuto un po', tramite anche Kixshani. A proposito, Kix, puoi dirci come si pronuncia il tuo nickname? Perché pare che nessuno lo sappia, quindi ce lo devi per forza chiarire. E appunto lei era sconosciuta, però adesso sto cominciando a conoscere anche lei, è molto brava. Insomma siamo tutti bravi e belli, su questo non c'è dubbio. Vabbè, comunque ho dato un'occhietta al forum e cito sempre, insomma, molta importanza. E poi non mi ricordo che cosa ho fatto. Vabbè, io gestisco anche una pagina Facebook di Mass Effect, che è un videogame a cui sono molto affezionato. Credo che sia, negli ultimi dieci anni, il videogame più bello che abbia mai giocato. Comunque ho, ossia una pagina che è un forum, una pagina che attualmente ha 200 iscritti e qualcosina in più. E quindi, niente, ogni tanto ho posto dei contenuti anche lì, perché è importante. Ho fatto anche delle immagini comiche, vabbè, delle parzellette, quelle specie di meme che si trovano sulle pagine. Sono contento che siano piaciuti. Poi, appunto, sono tornato sul forum, sul mio forum di Mass Effect, intendo. E mi sono occupato anche di quello. E non mi ricordo che altro ho fatto. Vabbè, di oggi non c'è molto a dare di domani. Vabbè, quando caricherò il video domani sarà già passato e quindi potrebbe essere che domani sarà ieri. Vabbè, comunque domani, dal punto di vista di oggi, che è venerdì, cioè in realtà, l'una di notte, di sabato, dovrò aiutare mio padre a fare i trasferimenti tra il suo ufficio attuale e uno nuovo in cui si deve spostare. E mi toccherà scopare come un cammello. E niente, si fa questo anche per la famiglia, molto volentieri. Non so cosa mi aspetterà. Vabbè, niente, quanto ho parlato? Cinque minuti? Sei? Io credo che possa passare così. Io racconto dopo la mia giornata. Questo video, del tutto casuale. Ah, e questo l'ho registrato con il telefono, perché ormai ho spento il computer e in più il microfono della webcam fa veramente schifo. Mi scuso tanto. Questo, vabbè, è il microfono di un cellulare, quindi si capirà metà delle parole che dico. Mentre quello della webcam ha un disturbo terribile, ha un disturbo terribile, fruscio, un fischio che rovina. Però troverò il motivo, il modo di risolvere. Magari chi ha detto la webcam di mio padre, vi vediamo. Dunque, dunque è veramente tutto e ci sentiamo prossimamente. Salute ragazzuali. Ciao, ciao.